Salve amici, bentrovati, eccoci l'appuntamento con l'informazione di TeleIblea sul canale 89. Anche questa Pasqua l'abbiamo messa in archivio. Questi primi tre mesi sono stati scoppiettanti e quindi la Pasqua 2024 va in archivio e devo dire che è stata, soprattutto per il territorio ibleo, una Pasqua calma, con bellissimo tempo. Che ha permesso a tutte le città della nostra provincia, dove si svolgono le manifestazioni più famose, di svolgere questi riti nel migliore dei modi. Noi abbiamo realizzato delle dirette, insieme ad altri amici di Ispica, abbiamo realizzato la diretta della Messa della Domenica a Ispica e poi il famoso incontro davanti alla Chiesa dell'Annunziata fra la Madonna e Gesù, Cristo risolto. E qui Ispica hanno questa tradizione di far ballare molto più movimentata il momento, perché quando si incontrano la Madonna e il Cristo si incominciano a ballare, i portatori fanno saltellare le statue e questa è una caratteristica un po' particolare. Però devo dire che è sempre molto sentito questo momento e c'era, come vedete, tantissima gente. Dicevo, noi abbiamo realizzato questa diretta e abbiamo anche fatto la diretta, poi magari qui, non so se ci sono le immagini, quando saltano le statue, ma noi abbiamo anche fatto, ecco vedete sta scendendo, sta scendendo dal sagrato della Chiesa la Madonna e poi si andranno ad incontrare più avanti in questo momento molto sentito e molto particolare. Dicevo, in tutta la provincia ci sono state queste cerimonie molto molto sentite, molto partecipate, questa Ispica, poi non ci dimentichiamo la famosissima Madonna Vasavasa che a Modica richiama tantissime persone. E poi, ecco, questa però prima ballavano, qui invece è proprio il bacio, l'inchino della Madonna e poi il bacio con Gesù. Vabbè, queste sono immagini di Ispica. Poi abbiamo fatto anche la domenica sera la Madonna Vasavasa in notturna. Sono 7-8 anni che si fa questa celebrazione e anche questa è stata molto seguita. Io vi devo dire che l'abbiamo mandata in onda anche su Facebook con migliaia di visualizzazioni, 7-8 mila visualizzazioni dell'una e dell'altra, perché moltissima gente ha potuto seguire la diretta su Facebook oltre a poterla vedere in televisione. Quella è la diretta da Modica che è durata più di un'ora e mezza. Poi c'è stato, come al solito, a Scicli, dicevamo, l'uomo vivo, molto molto partecipato e anche a Comiso, la pace, così si chiama, la chiamano così con gli angioletti che sono sulle statue, anche quella molto partecipata, dicevo, grazie al fatto che la temperatura è stata bellissima. Guardate, domenica sera a Modica c'erano quelli che mani più corti, come al solito, e magari che mani più corti. Qualcuno con il giacquale, ma la temperatura era ideale, quindi è stata bellissima questa manifestazione. Poi dicevo, c'è stata anche la pace a Comiso, il tempo è stato ottimo, la gente è andata in giro da tutte le parti, lunedì di Pasqua è stato, grazie a Dio, senza particolari problemi e qui siamo a Comiso, vedete le immagini della uscita delle statue dalla chiesa con Sparo di Mortaretti e compagnia bella e come dicevo, questi angioletti che fanno muovere i fazzoletti salutando. Ecco, questa è l'immagine di Comiso. Quindi abbiamo anche noi seguito un po' in varie fasi le cerimonie più importanti della Pasqua 2024. Per quanto riguarda il cibo, voi sapete, da noi a Ragusa vanno le empanate, l'agnello, perché poi l'agnello è un po' particolare. I neusani lo amano ma neanche tanto, si mangiano con piacere l'impanata, molti mangiano i famosi torciglioni, che sono interiore fatte in un certo modo, le cassate di Pasqua, la tradizione. Il lunedì c'è stata la scampagnata, arrostita in generale di sausizza, costate, stigliole, quelle fatte con cipollotti, insomma, vabbè, dai, è tanto, tanto buon vino, questo ci vuole sempre. Allora, auguri per questa Pasqua appena trascorsa. Ora, l'appuntamento della prima iniziativa sarà per il 25 aprile, poi ci sarà il fine settimana 27-28, durante il quale ci sarà anche la Sagra della Seppia. Vi dicevo, Pasqua, che tradizionalmente si fa, diciamo, il pranzo di Pasqua fra parenti e amici, però molti sono anche andati fuori. Il guaio è che purtroppo, a conti fatti, tutto questo ci è costato la bellezza di un miliardo di euro in più. I ristoranti, l'acquisto dei prodotti, insomma, è chiaro, non ci facciamo sfuggire nulla. Un miliardo di euro in più, secondo il servizio della Italpress, che ora vi mando in onda. Vediamo. Grazie. Grazie.